Ciao a tutti, bella gente del Motocata è ancora qui con voi, yeah, metto a posto la telecamera, già meglio. Oggi andiamo avanti con Lego, il Signore degli Anelli, nel caso non l'abbiate capito. Cominciamo subito a vedere la mappa del luogo. Le miniere di moria, ho ho ho, sento la santa, bla 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 bla, dobbiamo andare? Ok, di là, non sa nuotare, che merda, che cazzo, va bene, andiamo direttamente a non stop, che cazzo, ok, cosa c'è qua? Se va avanti di qui, va indietro, non lo so, vediamo. Ok, bla bla bla. Soon, Master Elf, you will enjoy the fabled hospitality of the Dwarves. Roaring fires, red meat off the bone. It's in the mines! We now have but one choice. We must face the long dark of Moria. This, my friend, is the home of my cousin Balil, and they call it a mine. A mine! Here lies Balil, some of Funtin. No hold on Moria. It's as I feared. We must move on. We can't drink. Ah, così, è nostro giù nel pozo? Va bene, va bene, va bene, va bene, non facciamoci domande su questo cielo. Perché non ho la spada? dammi qualcuno di serio, ha nessuno la spalla, oddio fai la spalla, ora, a me non sembra più serio, ok dammi regolas, 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 quale, 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 questo qua sarà una chiave, oddio, qua sarà una cosa da accendere, quindi dammi seno, che c***o, accendete stupido fuoco, vai veloce dai, dai dai, 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 cosa c'è qui, cos'è, oh la chiave, ottimo, oddio, mettila dove c*** hai voglio, basti che la usi qui, oh ecco l'ingranaggio, ma mettila dove ne voglio, ma dove ha messo, qui, ottimo, come lo ti ho su, oh nano, wow, what a ganga, ah ma l'ho fatto il pezzo, ok, non l'avevo visto questo quadro ha messo un po qua ma anche no non devo costruire più difficile quel pezzo fare il cazzo ha messo un pezzo qua che cazzo ma da t'affanculo tutti devo spaccare la cassa e gira sta cazzo di manovelle fuori come faremo mai Ehm, immagino che debba... Faccio qua. Va bene. No, 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 no. Molle, 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 molle. Ok. Ah, ma sto rinforzando la difesa. Oh, adesso non ho lenta, non ho mai. no 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 stupido no ma si è vero si non è ancora morto vuoi vedere come lo fanno morire la bocca si arrivano addosso 750 frecce oh oh posso far morire in modo cartoonizzato ma sono morto a me a caso forza ancora la padella in mano oh 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 Oh, no, 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 no. Oh He's alive I think there's more to this Hobbit Than meets the eye Mithril To the bridge of Khazadon 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 Uh uh Sembri una bolla di protezione Però qui dentro alla stessa situazione È un po' una merda quella bolla qui ci diamo tutte appena finisce questo massacro chiude l'episodio sempre se finisce ok avanziamo mi chiedono cinque adesso vai via vai via due uno due 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 cinque colpa andiamo due quattro sei uno sette e uno due tre quattro cinque sei e si ti diamo ok siamo alle volte vabbè qui c'è ballo ballo pagiama ok si lo so che ci sarebbe molto a fare ma non sto non so questo coso qua ecco pipino può utilizzare i secchi per prendere dell'acqua e delle buzze di legno mentre invece oh questo c'è un'altra di tutte le palle dove l'avevo messo questo cosa me ne faccio di questo bagaglio ok nano di me ah lì va secchi ok e spacco ok costruiamo ah il finale forse quindi grande con calma ok pepino tu sei pepino oia pepino non mangiacino a spegnare il fuoco che cazzo si vieni si mettilo lì bene usa stornando sto hobby di merda usa sto cazzo di secchio la guarda un bosone ma ti posso salvare con oggetti bene oh bene ma mandaci ad un eh sei stonzo lì oh ah che cazzo lo stucco metti qui lì 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 prendiamo subito legolas che c'è qualcosa qui cos'è? è il morco di morgo va bene ah per salvare salva ah no di salva e continua vabbè visto che abbiamo salvato possiamo cedere qui l'episodio direi quindi bella gente se questo video vi è piaciuto scendo il pollice su altrimenti lasciate il pollice su stesso ciao a tutti bella gente e vi vediamo al prossimo gameplay ciao